Io ringrazio il dottor Olivetti che mi ha invitato anche quest'anno e devo dire che però la mia relazione sarà difficile dato che segue quella di Giussani, quindi la concentrazione che ha raggiunto l'apice nei scorsi 20 minuti e ormai sarà arrivata sottoterra, quindi attenderete solo la pausa pranzo. Spero che un minimo di concentrazione l'avete per ascoltare almeno qualche parola sull'angiotac che è diventato un esame fondamentale per un radiologo e anche per un tecnico di radiologia evidentemente nell'epoca attuale, proprio per un sviluppo tecnologico notevole. Per angiotac la definizione riguarda l'etimologia delle due parole, cioè angio che significa vaso sanguigno e tac la tomografia computerizzata, quindi lo studio dei vasi, uno studio di imaging vascolare attraverso la tac. Oggi con le nuove tecnologie, quindi con la tac di ultima generazione che sono veramente dei portenti, possiamo ottenere delle immagini con delle ricostruzioni veramente sofisticate e sovrapponibili a un'immagine anatomica reale. Sappiamo tutti che la tac è un'indagine che utilizza radiazioni ionizzanti, quindi una tecnica tomografica e attraverso i raggi X vengono rilevati gli stessi raggi X dai detettori una volta che attraversino una sezione del nostro corpo. Questi detettori trasformano successivamente la forza, l'energia dei raggi X in ricostruzioni matematiche e successivamente in immagini. L'evoluzione della tomografia computerizzata, abbiamo detto, è veramente notevole e si parla comunque di un macchinario recentissimo, perché se pensiamo alla tac, noi pensiamo a fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, come le prime tac che si definivano e si scrivevano anche nei referti come proprio tac, cioè T-A-C, intendendo in questo modo delle immagini esclusivamente assiali. Oggi, dopo pochi anni, dopo vent'anni circa dall'introduzione della tac, più o meno, abbiamo la definizione di T-C, non più di tac, perché ormai le immagini sono tridimensionali, abbiamo delle ricostruzioni multiplanari e non soltanto assiali. Questa è quindi, per fare vedere una carrellata delle macchine che abbiamo a Cremona, questa è la macchina che non esiste più, una tac, diciamo, spirale, sostituita poi, scusate, da una tac multistrato a 16 strati per arrivare a quella di oggi a 320 strati. Quindi è stata un'evoluzione repentina nel tutto l'ambito medico che il passaggio da comunque un'indagine tac che era notevole, cioè la scoperta della tac ha rivoluzionato la diagnostica e la terapia della medicina, arrivare però a dei prototipi veramente eccezionali che ancora oggi stiamo studiando come le tac di nuova generazione. Quali sono le caratteristiche delle tac multistrato che rappresentano la vera pietra migliare per lo studio dei vasi, quindi per, diciamo, la radiologia vascolare? Sono le tac multidetettore perché ci permettono di analizzare un'ampia sezione corporea in un'unica scansione. Questa è l'accuratezza, cioè diciamo è lo spessore di corpo che può essere studiato con la tac a 320 strati, cioè in 0,35 secondi noi possiamo coprire un settore corporeo di 16 centimetri. Vale a dire che con un'unica rotazione del gentry, oggi con una tac a 320 strati, possiamo studiare l'intero encefalo e l'intero cuore. Quindi è un'evoluzione notevole sia per la velocità di acquisizione che per la possibilità di ottenere ricostruzioni multiplanari. Anche questo è fondamentale perché sappiamo che i vasi sono delle strutture tortuose, quindi per seguire la loro interezza sono indispensabili delle ricostruzioni. In più le tac multistrato in particolare, quelle di ultima generazione, permettono delle valutazioni funzionali e dinamiche. Quindi questi sono tutti gli aspetti fondamentali della tac multistrato, un'elevata risoluzione spaziale di contrasto, una minor durata dell'esame, questo vuol dire minore artefatti respiratori da movimento, delle immagini multiplanari e una riduzione della dose radiante. Quindi si è ottenuta un'elevata accuratezza diagnostica in brevissimo tempo di scansione. Quindi si è passati dall'indagine T-Cicli, dicevamo prima, dove si parlava di sezioni ad immagini di tac multistrato, dove il concetto è modificato, si parla di volumi che vengono acquisiti. Questa è una cascata diciamo di evolutiva in breve tempo, quindi si parla di anni, e soprattutto nell'ultimo decennio, di tac multistrato da 4 detettori a 320 detettori, si può vedere come sempre una più ampia sezione corporea può essere studiata in brevissimo tempo. Per fare un paragone vedete che il passaggio dall'attac a 4 strati a quella a 256 strati permette in un'unica scansione di passare da un piccolo settore di cuore studiato a tutto il cuore studiato in un'unica acquisizione. L'attac multistrato, quindi con queste caratteristiche in particolare, con il fatto che si ottengono dei vox risotropici, cioè dei piccoli cubi con tutte le dimensioni uguali, siamo con tutti i lati della stessa dimensione, tutti gli spigoli della stessa dimensione, otteniamo un'elevata quantità di dati grezzi, anche più maggiore di 1500, e di conseguenza abbiamo la possibilità di ottenere delle ricostruzioni multiplanari. Breve tempo di acquisizione per l'attac multistrato vuol dire acquisire volumi corporei in rapida successione, anche questo è un aspetto indispensabile perché ci permette di studiare i vasi in diverse fasi di opacizzazione, quindi avendo una metodica rapidissima noi possiamo studiare sia la fase arteriosa che la fase venosa, o fasi ulteriormente più tardive dopo la somministrazione di mezzo di contrasto. Per lo studio dell'angiotac sono indispensabili questi tre punti da non dimenticare, parlo in particolare ai tecnici che fanno l'attac, cioè è indispensabile eseguire sempre una scansione senza mezzo di contrasto, una scansione arteriosa in particolare per lo studio dei vasi arteriosi come la orta o le arterie cerebrali, e poi una fase venosa e tardiva. Comunque ricordarsi sempre che quella senza mezzo di contrasto è indispensabile. La prima domanda che vi ho posto, che arriva all'inizio della relazione, cosa si intende per l'angiotac? Lo studio dei vasi nella fase arteriosa, nella fase venosa o solo dopo MDC, come vi ho appena detto, è indispensabile che vengono eseguite sia scansioni pre che dopo MDC. Prima di eseguire l'attac, essendo, dovendo utilizzare il mezzo di contrasto, necessario il consenso informato, quindi penso che sappiate tutti, anche se vedo dei giovani studenti, quindi probabilmente non sono ancora avvezza a questa cosa, comunque è indispensabile ottenere il consenso informato dal paziente. Questo ci permette anche di inquadrare il paziente, quindi di capire prima di tutto se può fare l'attac, cioè se esistono delle allergie o delle patologie che ne impediscono la sua esecuzione, e poi per capire le varie terapie in atto o più semplicemente se vi è uno stato di gravidanza, che sapete tutti è una contraindicazione, almeno non in casi di urgenza e emergenza per l'esecuzione dell'attac. Questi sono i parametri da considerare per eseguire, per somministrare il mezzo di contrasto, in particolare la clearance della creatinina, che per evitare insufficienza renale, la glicemia oggi è considerata non un valore, una contraindicazione assoluta, così come l'attofresi delle proteine. È indispensabile anche il digiuno sia per la corretta esecuzione dell'indagine che per evitare reazioni avverse come il vomito. Appunto per le reazioni avverse bisogna distinguere in due categorie, una che è in relazione alla dose, alla concentrazione, all'osmolarità del mezzo di contrasto, e la dose del contrasto provoca soprattutto danno ai reni, quindi la famosa nefropatia da MDC come l'insufficienza renale, e poi anche danno al sistema nervoso centrale. Viene una seconda però, un secondo tipo di reazioni avverse, che non dipendono dalla dose del mezzo di contrasto. Queste sono definite reazioni anafilatoidi e consistono, penso che tutti quelli che abbiano i tecnici dell'attacca l'abbiamo vista almeno una volta, sono soprattutto l'orticaria, la nausea, delle reazioni simili, orticarioli come i ponferi, i tematosi, però sappiate che ci possono essere anche delle reazioni molto gravi come l'arresto cario circolatorio. E queste reazioni che sono appunto indipendenti dalla dose del mezzo di contrasto, sono correlate alle patologie del paziente, quindi a eventuali cardiopatie o asma o atopie, c'è questa predisposizione alle allergie, sono un substrato che può stimolare, può provocare delle reazioni avverse a mezzo di contrasto. Come si prevengono? Oggi ormai tutti i mezzi di contrasto sono non ionici e questo si è visto che ha modificato di molto la possibilità di avere delle reazioni avverse, quindi i mezzi di contrasto non ionici riducono notevolmente la possibilità di avere reazioni avverse, così come l'idratazione dei pazienti a rischio, la somministrazione di corticosterodi antistaminici, per esempio nei pazienti che abbiano avuto già pregresse reazioni allergiche a mezzo di contrasto. È fondamentale poi eseguire la dialisi dopo poche ore nei pazienti che sono in insufficienza renale, sarebbe meglio entro le 6-8 ore dopo aver dato un mezzo di contrasto. Quindi, una seconda domanda riguardo le controindicazioni dell'angiotac, se è la seguente, quale secondo voi è la controindicazione assoluta, di ipertiroidismo, clearance della creatinina minore di 30, la pregressa ischemia cardiaca, l'asma bronchiale? Ecco, la risposta è la seguente, è la 5, perché sappiamo che l'ipertiroidismo è una controindicazione assoluta, poiché i mezzi di contrasto sono mezzi di contrasto iodati, quindi si può avere una tiro tossicosi dando mezzo di contrasto, così come la crina e la creatinina, per quello che dicevamo prima, se si ha una, si dà un'ulteriore dose, diciamo che il mezzo di contrasto è nefrotossico, in particolare per coloro che hanno una insufficienza renale presente e non facciano dialisi. L'ischemia cardiaca e l'asma bronchiale non sono delle controindicazioni assolute, anche perché presumo che una ampia fetta dei nostri pazienti verrebbe eliminata in queste due condizioni patologiche. Bisogna stare attenti però perché, come abbiamo detto prima, sono a predisposizione eventuali reazioni allergiche. Ecco, un altro aspetto fondamentale è che durante, per eseguire l'angiotac, bisogna ottenere gli accessi periferici ampi, diciamo, cioè delle agocano da 18-20 gaugoshe, cioè almeno un rosa o comunque preferibile un verde, perché dobbiamo somministrare mezzo di contrasto ad alto flusso, almeno a 3-5 millilitri al secondo. Nel caso di accessi centrali, che comunque sono sempre da evitare, proprio per la possibilità di rottura di questi accessi, il flusso deve essere inferiore. Tutto questo perché dobbiamo ottenere, il nostro scopo è quello di avere un'opacizzazione uniforme dei vasi che dobbiamo studiare. Quindi il nostro obiettivo, il nostro target è quello di ottenere, di avere un contrast enhancement uniforme nei vasi. Questo si può realizzare modificando i parametri di iniezione, di acquisizione anche per certi aspetti le caratteristiche del paziente, o meglio adeguarsi alle caratteristiche del paziente. I parametri di iniezione sono la velocità della somministrazione del mezzo di contrasto, il volume, la concentrazione e la durata dell'iniezione. Ecco, come dicevo prima, un flusso maggiore permette di ottenere un'opacizzazione uniforme dei vasi, così come un mezzo di contrasto più concentrato, o meglio, con un valore di concentrazione di 300-350, se sicuramente da preferire. La durata dell'iniezione oggi, come ho fatto vedere prima, è rapidissima anche per le possibilità che ci forniscono le nuove TAC a disposizione. I parametri di iniezione prevedono che dopo la somministrazione nel mezzo di contrasto dobbiamo sempre iniettare una soluzione fisiologica, quindi noi utilizziamo dei iniettori a doppia siringa, e questo perché la soluzione fisiologica dopo il mezzo di contrasto evita le dispersioni dello stesso, diciamo che spinge il mezzo di contrasto e permette un enhancement vascolare più prolungato. Di solito utilizziamo 30-40 millilitri, con comunque ad alto un buon flusso di endovena, cioè di 3-4 millilitri al secondo. L'altro aspetto fondamentale che conoscono tutti coloro che hanno fatto la TAC è la necessità di sincronizzare il bolo con l'acquisizione della macchina, cioè noi dobbiamo fare in modo che l'apparecchiatura acquisisca le immagini di quel settore corporeo, di quel vaso, nel momento in cui si ottiene il peak enhancement, cioè nel momento in cui l'enhancement in quel vaso è il maggiore possibile. E questo si può ottenere attraverso varie modalità, in particolare attraverso il bolus tracking o il test bolus, che sono dei sistemi attraverso i quali la nostra macchina inizia la scansione appunto al peak enhancement. Nel test bolus eseguiamo delle scansioni seriate dopo la somministrazione di una minima quantità di mezzo di contrasto su una certa regione di interesse, sulla nostra ROI, monitorando la densità. In questo modo otteniamo delle curve enhancement tempo, cioè nel momento in cui possiamo vedere quanto impiega il mezzo di contrasto a raggiungere il peak enhancement in quella determinata regione corporea e di conseguenza impostiamo il delay, cioè il ritardo con cui la macchina deve iniziare l'acquisizione. Quello però, il metodo più utilizzato è il bolus tracking, consiste nell'impostare un valore densitometrico soglia, generalmente dai 100 ai 150 unità a Hounsfield, sulla nostra regione di interesse, per esempio sulla orta o sull'arteria polmonare o sulle carotidi nel caso di uno studio dell'encefalo e si acquisiscono, la macchina acquisisce in maniera seriata delle immagini a bassa dose, in modo tale che nel momento in cui in quella determinata ROI viene raggiunto valore soglia, il threshold, diciamo, la macchina acquisisce automaticamente la scansione. Questo ci permette appunto di iniziare la scansione nel momento in cui si ha il maggiore enhancement vascolare. Questo è un esempio del grafico di un bolus tracking, vedete nelle ascisse il tempo, nelle ordinate il nostro threshold. Noi abbiamo impostato il valore soglia a 100 unità a Hounsfield nel momento in cui il contrasto all'interno di quella particolare ROI, quindi per esempio nella orta, come dicevo prima, raggiunge i 100 unità a Hounsfield, automaticamente la macchina inizia la scansione. Questo è importantissimo, diciamo, fondamentale, soprattutto nei pazienti anziani o cardiopatici in cui il potere, diciamo, cardiaco, la funzione cardiaca che è ridotta, quindi non sappiamo con precisione quando in quel vaso si otterrà il peak enhancement. Quindi la terza domanda riguarda l'accuratezza diagnostica delle nostre immagini. Una domanda direi semplice, come si può ottenere la maggiore accuratezza diagnostica? Un'attac spirale con mezzo di contrasto a bassa dose con basso brusso, un'attac multistrato, quindi con vox isotropico o senza somministrare fisiologica. La risposta è la numero 3, perché abbiamo detto ormai le tacc spirali, anche se esistono, sono abbastanza diffuse, soprattutto in periferia, però sono state scalzate dalle tacc multistrato, almeno per lo studio vascolare. La concentrazione di mezzo di contrasto è ben detto che deve essere alta e con alto flusso per avere il miglior peak enhancement e poi è importante somministrare fisiologica dopo il mezzo di contrasto. Quello che ci permette le nuove tacc multistrato sono la fase successiva. L'acquisizione è una fase preliminare che occupa poco tempo. Quello più importante è sicuramente il post-processing, cioè l'elaborazione dei dati ottenuti attraverso delle workstation dedicate. Questo ci permette di avere delle ricostruzioni B e tridimensionali o anche in 4D oggi con i nostri nuovi portenti TC. Quindi tutto questo è permesso proprio con l'attacco multistrato dove possiamo avere delle ricostruzioni multiplanari dette MPR. Sono bidimensionali, però possiamo avere delle immagini ottenute su tutti i piani dello spazio. Possiamo fare anche delle ricostruzioni curvilinee oblique e variando lo spessore possiamo avere delle elevate risoluzioni spaziali. Il problema è che l'MPR non segue direttamente il vaso quindi dobbiamo modificare l'inclinazione spaziale della nostra ricostruzione per seguire il vaso stesso. Questo è un esempio di ricostruzione MPR. Vedete che abbiamo modificato l'inclinazione della ricostruzione questa è sagittale questa è una parasagittale dove dimostra la presenza di due grosse neurismi un della orte uno dell'iliaca di destra possiamo modificare i nostri piani ma sempre in due dimensioni. Un'altra ricostruzione fondamentale per lo studio vascolare è la MIP e questa ricostruzione MIP è importante perché permette di visualizzare solo le strutture con maggiore densità quindi avendo somministrato un mezzo di contrasto i vasi saranno molto densi e simili con una densità paragonabile a quella dell'osso e quindi abbiamo immagini simili angiografiche proprio perché i vasi hanno un'elevata densità. in più attraverso la MIP possiamo isolare le strutture vascolari da tutto il resto quindi vengono cancellati gli organi o le strutture diciamo i tessuti molli possiamo avere una rappresentazione del vaso lungo tutto il decorso e però diciamo che la MIP possiede dei limiti importanti che sono le calcificazioni degli stent che ci impediscono di studiare correttamente il lume del vaso. Questo è un esempio di una MIP di un paziente sottoposto all'intervento di endoprotesi per un aneurisma aortoiliaco vedete che possiamo dimostrare dare una maggiore opacizzazione la MIP permette di dare importanza o meglio di sottolineare le strutture vascolari perché hanno una maggiore densità rispetto a tutto il resto. L'endoprotesi in questo caso ci impedisce di valutare correttamente il lume vascolare anche se abbiamo delle informazioni in diretta come la pervietà dell'ilia che avvale dell'endoprotesi che ci permette di dire che queste endoprotesi sono pervie. Un'altra ricostruzione è una ricostruzione volumetrica sono ricostruzioni tridimensionali e in questa ricostruzione noi visualizziamo tutti i voxel compresi nel nostro esame possiamo anche dare anzi la ricostruzione da dei colori diversi a strutture sovrapposte che vengono quindi modificate questo scusate sono delle ricostruzioni VRT vedete che vengono rappresentate con diversi colori delle diverse strutture corporee ricostruzioni tridimensionali il paziente di prima un aneurisma della orta un voluminoso aneurisma dell'iliaca e questo dopo l'intervento di posizionamento dell'endoprotesi possiamo poi avere anche dei filmati eseguire dei filmati con le nostre workstation questo è un filmato vedete che ho seguito direttamente tutto il decorso dell'arteria posizionando una ricostruzione curvilinea seguite l'arteria in questo senso in modo tale da avere un'immagine sempre assiale del vero calibro endruminale di questo aneurisma della orta voluminoso del paziente quindi posso ottenere delle ricostruzioni sul stesso piano attraverso queste immagini curvilinee stesso esempio cioè altro esempio di una ricostruzione diciamo sagittale in cui si dimostra ancora l'aneurisma della orta dell'iliaca quindi la la quarta domanda che vi pongo quali siano le ricostruzioni fondamentali per lo studio vascolare e la risposta anche in questo caso è semplice perché tutte quelle che vi ho fatto vedere quali sono le indicazioni per lo studio dell'angiotac le indicazioni sono diciamo uno studio delle dimensioni vascolari in particolare nel sospetto di aneurismi o di stenoclusioni nel sospetto di trombosi arterovenoso di trombosi polmonari e nel caso di malformazioni come le malformazioni arterovascolari o le fistole scusate le malformazioni arterovenose o le fistole arterovenose nel caso di dissecazione di matomi intramurali o di traumi perché sapete che nei traumi è frequente la possibilità di avere degli spandimenti in mezzo di contrasto delle rotture vascolari nello studio dell'encefalo si utilizzano questi parametri siamo il protocollo di studio dell'angiotac io ho rappresentato i parametri della nostra nuova dell'attac diciamo a 320 strati e tutto questo permette vedete un tempo di scansione rapidissimo ottenere delle immagini sottilissime quindi di 0,5 mm ricostruite poco con un incremento di 0,25 perché ci permette di avere ottenere delle ricostruzioni multiplanari più efficaci e tutto questo senza che il lettino si muova proprio perché per il motivo che ho fatto vedere prima dello spessore che viene coperto dall'attac multistrato queste sono le immagini che possiamo ottenere vedete che sono immagini simili angiografiche adesso possono sostituire quasi tutta l'angiografia vedete che dimostriamo questo aneurisma stesse paziente con ricostruzioni volumetriche dimostrano anche in questo caso l'aneurisma altra ricostruzione simile angiografica di un'attac incefalo di un paziente 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 con occlusione qui vedete la terracarotide di destra da questa parte non c'è quindi queste sono le immagini che possiamo ottenere con le attac volumetriche veramente eccezionali e simili all'angiografia nel caso dei tronchi dei tronchi sovraorcici non utilizziamo di solito i 320 strati ma la nostra nuova macchina può agire funzionare sia a 320 strati che a degli strati inferiori in questo caso utilizziamo un 64 strati quindi con collimazione di 0,5 e questi parametri poi di acquisizione è importante fondamentale posizionare e eseguire il bolus tracking come vi dicevo prima e posizionare la ROI sull'arco ortico il range deve essere sempre dall'arco ortico ai seni frontali vedete le immagini che possiamo ottenere di vasi sovraortici come in questa ricostruzione VRT nell'ambito invece degli aneurismi della orta lo studio attacca è diventato indispensabile perché permette un planning cioè di pianificare l'intervento chirurgico sapete che esistono diversi tipi di aneurismi in particolare quelli fusiformi e saciformi ed il rischio di rottura è maggiore quanto maggiore il diametro del vaso in certe circostanze come abbiamo fatto vedere diciamo indirettamente prima l'ottoressa Fornaciari sono delle emergenze delle urgenze degli aneurismi aortici in particolare quelli post-traumatici o definiti pseudo-aneurismi ecco la differenza tra il vero aneurismo e lo pseudo-aneurismo cioè l'aneurismo vero è che lo sfiancamento del vaso delle cui pareti però sono mantenute cioè sono tutte e tre le pareti la ventizza la media e l'intima che si sfiancano nel caso di un pseudo-falso aneurisma la parete periferica è costituita solo dalla ventizia questi sono i calibri della orta per definire aneurismatica una orta toracica una orta addominale vedete che sopra i 10 cm c'è il 60% di rottura questi sono degli studi un po' diversi ma probabilmente la percentuale di rottura è ancora più alta il protocollo di studio prevede sempre un topogramma cioè un'immagine di centratura come vi dicevo prima è indispensabile la fase senza mezzo di contrasto e poi la fase dopo mezzo di contrasto arteriosa venosa e tardiva noi utilizziamo di solito 32 strati con un range che va dagli apici polmonari al bacino considerando il sospetto di un aneurisma toraco-addominale nella fase arteriosa questa intendevo la fase senza mezzo di contrasto nella fase arteriosa invece utilizziamo un protocollo a 64 strati sempre un range dagli apici alle basi polmonari delle ricostruzioni sottili 0,5 mm ricordate indispensabile la MIP e la MPR nella fase venosa è paragonabile diciamo alla fase senza mezzo di contrasto il delay di solito un 60-80 secondi dalla somministrazione dello stesso facciamo partire la scansione venosa queste sono immagini delle ricostruzioni di questo voluminoso aneurismo fusiforme della orta addominale vedete che c'è già uno spandimento di mezzo di contrasto nella sacca aneurismatica quindi si è formato uno pseudoneorisma stessa immagine nella ricostruzione in MIP vedete il mezzo di contrasto opacizzato perché è denso quindi separato dalle altre strutture che vengono in secondo piano poi logicamente noi possiamo fare le ricostruzioni su tutti i piani dello spazio il stesso paziente dopo l'intervento chirurgico vedete vediamo bene vengono dimostrate le endoprotesi posizionate un altro evento a volte drammatico che però è indispensabile studiare con l'angiotacca sono le dissecazioni ortiche quando sono acute sono delle vere e proprie emergenze croniche invece diciamo stiamo tranquilli anche se riteniamo controllate per dissecazione si intende la soluzione di continuo della tonaca intima con il passaggio del mezzo di contrasto nel sangue o comunque dopo aver eseguito l'attacca del mezzo di contrasto nella parete del vaso quindi si formano due lumi un vero e un falso lume e i fattori di rischio sono diversi in particolare questi principali marfan è una malattia diciamo genetica con riduzione del contenuto elastico e del collagene delle pareti vascolari quindi predispongono alla rottura o alla dissecazione della orta il tipo A è quello più grave che deve essere trattato chirurgicamente o comunque trattato in maniera endovascolare o chirurgica nel senso che il tipo A costituisce la dissecazione della orta ascendente quindi vengono coinvolti anche i vasi epiaortici mentre il tipo B è distale all'arteria su clave sinistra in questo caso ci può essere anche attesa o la cronicizzazione del quadro il protocollo è lo stesso dell'aneurismo della orta questa vedete delle ricostruzioni molto belle il doppio lume della orta il vero e falso lume che si forma dopo il flap intimale questa è una paziente che abbiamo eseguito noi faccio vedere in questo caso sempre le ricostruzioni corviline per avere un diametro assiale sempre corretto vedete i due lumi vascolari il vero e il falso lume delimitato dal flap intimale noi seguiamo tutta la dissecazione che arriva fino alla orta toracica vedete fino all'arco aortico e quindi esteso in tutta la orta toraco addominale altro evenienza molto frequente per i tecnici dell'attac e per noi medici è l'embolia polmonare che praticamente in tutte le istituzioni dell'attac abbiamo a che fare con questa a meno con il sospetto di embolia polmonare e che costituisce l'occlusione parziale o completa dell'arteria polmonare i fattori di rischio sono i seguenti vedete l'immobilizzazione le fratture i tumori interventi chirurgici quindi un'alta possibilità di condizioni patologiche la clinica è una clinica che a volte è sfumata però generalmente a volte quasi sempre è sfumata quindi non è di rimente è di sprenere la cianosi la trachicardia e anche il dolore toracico sono i più frequenti nell'embolia polmonare utilizziamo un'attac a meno con la nostra indotazione 64 strati con questa collimazione e ricordatevi che il range deve andare dagli apici polmonari e i seni costofrenici 70 ml di mezzo di contrasto più la fisiologica indispensabile utilizzare il bolus tracking con la nostra ROI quindi la regione di interesse sull'arteria polmonare questo è un altro caso visto nel nostro istituto nel nostro reparto vedete massiva embolia polmonare bilaterale questi difetti di riempimento nelle ramificazioni centrali periferiche dell'arteria polmonare queste sono sempre ricostruzioni MPR vedete su diversi piani coronale paracoronale e poi possiamo fare anche le assiali MIP per esempio non sono proprio indispensabili in questo tipo di patologia però ci dimostrano i difetti di riempimento che si vedevano in MPR con l'angiotac noi possiamo dimostrare non solo delle malformazioni vascuali della orta o dei vasi cerebrali o dei tronchi sovortici ma anche delle malformazioni vascolari che coinvolgono altri organi come in questo caso di entrotac vedete che abbiamo disteso le ansie intestinali con soluzioni fisiologiche e isocolanne prima dell'indagine facciamo una fase arteriosa e dimostriamo questo groviglio di vasi attorno ad un'ansa dell'ilio distale che delimitano una MAV intestinale vedete anche in questo caso il groviglio di vasi è stato dimostrato con una ricostruzione MIP il paziente poi è stato operato con una emicolectomia destra e una stomosi ilio colon trasverso le malformazioni vascolari possono interessare non solo l'intestino ma anche altri organi come in questa giovane ragazza che è stata venuta occasionalmente per un RX orace che dimostrava un nodulo polmonare quindi è stata consigliata l'attacca fortunatamente l'attacca è stata eseguita con il mezzo di contrasto e anche con una fase arteriosa si è dimostrato questa malformazione arterovenosa polmonare con un vaso afferente dall'arteria polmonare e un vaso afferente dalla vena polmonare il paziente è poi stato embolizzato sempre nel nostro reparto con delle spirali e adesso sta bene con le angiotacca possiamo ottenere delle ricostruzioni anche dei vasi viscerali per dimostrare eventuali stenosi o malformazioni così come i vasi periferici eventuali pseudoneurismi post-traumatici o come nello studio delle vene varicose si possono avere questi tipi di ricostruzione il presente e il futuro diciamo che queste immagini che sono comunque straordinarie rappresentano già il presente e il futuro quale può essere il futuro come ripeto è già il presente è anche un futuro di una valutazione metabolica o comunque più che metabolica una valutazione funzionale degli organi che si vanno a studiare in particolare uno studio perfusionale vedete in questo encefalo come la perfusione di tutti i segmenti di encefalici sia regolare in questo caso invece sia alterata da una ampia ischemia qual è ancora il futuro che però è tuttora presente il futuro sono queste immagini in quattro dimensioni veramente bellissime che ci permettono di studiare l'encefalo diversi o altri tratti del corpo altri settori corporei per valutare eventuali malformazioni in particolare in questo caso encefaliche grazie per la attenzione ringrazio anche il dottor Crispino e il dottor Salvatore Cuffari che mi hanno aiutato nelle immagini che vi ho fatto vedere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti